Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. Per questi lavori chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma un chilometro di coda per lavori tra il bivio con la variante di Vali con Baccheraia e Firenze Nord. Sempre in A1 stanotte in orario 21.6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Vali con la Quercia e Aglio in direzione Roma. Contestualmente chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzola in entrata verso Roma in uscita provenendo da Bologna. A Firenze sul ponte Vespucci lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!